Ecco qua, spettatore privilegiato, vediamo un po' come viene Alla parte l'autore della pista Sì, non servono a niente proprio, non fanno per i niente Non so se si attocca Andiamo a piano, è il momento, a volte stanno studiando la pista E' un attivo di vento, una giusta, un grande, un grande, un grande, un grande, un grande Sì, non si attacca Ehm... A ver a la via, non si attacca Alguien a vedere il momento A ver a la via, non si attacca Ehm... A ver a la via Grazie a tutti.